Ciao a tutti, rieccoci sul nostro spazio di interviste dedicato agli ospiti dei nostri The Workspace, i meetup organizzati da DocMinds. Oggi sono sempre con Innocenzo Sansone e con Ezio Sperduto, Senior Software Engineer e Speaker del prossimo meetup dal titolo Creiamo ApiRest con Java, Spring e Spring Boot. Quindi ciao ad entrambi e benvenuto soprattutto Ezio. Ciao Roberta, grazie. Allora, iniziamo subito un po' a chiederti quando hai iniziato a programmare, e in che modo poi la programmazione è anche diventato il tuo lavoro. Allora, ho iniziato a programmare, questa è una domanda per me strana perché è molto tardi, nel senso io ho iniziato a programmare, possiamo dire alle scuole superiori, a differenza di molti amici, nerd e magari colleghi che conoscete anche voi. Ho conosciuto il computer a 14 anni, forse è tardissimo, pure per altre persone che non programmano. Solo a 14 anni ho iniziato con le scuole superiori a conoscere, all'epoca fu il Pascal, che è un linguaggio di programmazione ancora usato in varianti un po' più moderne. Dalla scuola all'inizio, poi con degli amici verso gli ultimi anni delle scuole superiori, la cosa è cresciuta, è migliorata, ci siamo appassionati, anzi devo dire, proprio i progettini e le cose più simpatiche che abbiamo fatto sono state quelle fatte in autonomia, cioè non con dei docenti, ma fatte in gruppo tra amici, dove all'epoca, ripeto, di informatica, dico all'epoca, ho 40 anni e praticamente un po' di tempo fa ci siamo divertiti a iniziare a costruire qualcosa in Cici, più più che per quello che facevamo nel programma studentesco era già un qualcosa di avanzato. Poi ovviamente studiando l'università ho fatto informatica, e quindi sono andato avanti su questo filone perché è diventata la mia passione primaria, l'informatica rispetto a altre scienze, sicuramente la cosa che mi piace di più di tutti, mettiamolo in questi termini. Assolutamente, ma quindi ora nello specifico dopo appunto questo percorso bellissimo che ci hai raccontato, di cosa ti occupi poi nel mondo IT e proprio nella programmazione? Allora, eh, mi occupo di varie cose, sicuramente al lavoro, diciamo, sono il referente di una azienda, ma che si occupa di T, di informatica, e quindi faccio tanto il programmatore, senior software engineer, l'ho messo, lo specifico, lo dico sempre, cioè io sono nato con la programmazione e sono sempre il programmatore, però uno, aiuto dei colleghi che magari sono più junior a lavorare, e magari do assistenza, faccio quel mentorship, quella guida che serve anche quando magari una persona è, diciamo, all'inizio delle attività, poi faccio delle attività di sviluppo proprie, quindi sviluppo proprio io, prevalentemente su Java, lo dico per fare pubblicità, però questo è il mondo che mi piace più di tutti, e poi ovviamente oltre questo faccio un po' sicuramente di attività, community, formazione, comunque, sì, possiamo dire consulenza, sviluppo e formazione, poi ovviamente lato sviluppo sia realizzazione che progettazione, diciamo, applicazioni, algoritmi. Non ti fai mancare assolutamente nulla, dai, possiamo dire. No, no, pulisco anche per terra, si può dire. Un altro modo, se sono quelle cose, quando ti occupi di gestire, ti credevi a tutte proprio. Con Enzo condividiamo molto spesso. No, tra l'altro, infatti, allora, Ezio lo conosco molto bene, quindi in questa domanda in realtà, non voglio spoilerare nulla, però in realtà vorrei che raccontassi un po' ai nostri amici. Allora, so che sei molto attivo nell'ambito delle dev and tech community, quindi volevo prima di tutto che raccontassi ai nostri amici che cosa fai in questo ambito e poi pure perché, secondo te, e se lo sono, le community sono importanti per uno sviluppatore. Bellissima domanda questa, che sottolineo, rimarco, ora cerco di dargli pure un'ottima risposta. Allora, su questo, per quanto riguarda il mondo delle community, ho iniziato a seguirlo dopo aver iniziato a lavorare. E come? Cercando su internet Java User Group, cioè JOOG proprio il termine, e ho trovato che esisteva, esisteva all'epoca, il Java User Group a Roma, di appassionati Java, di professionisti Java, e, diciamo, è stato un punto di partenza per conoscere questa realtà che io non sapevo, una prima community a cui mi sono, diciamo, affiliato un brutto termine, iniziato a seguire, a conoscere i ragazzi, eccetera, eccetera. Da questo è nata un'amicizia forte pure con i colleghi quelli più interni, e abbiamo portato avanti anche insieme, diciamo, gestionalmente, questo tipo di gruppo, che poi ha cambiato nome, non si chiama più Java User Group, ma CodeGarden Roma, e poi, ovviamente, su questo facciamo di tanto in tanto dei meetup, prima in presenza, ora online, perché il Covid e tutta la giostra della pandemia ci ha obbligato, e magari speriamo il prima possibile di rifare qualche evento in presenza. E per quanto riguarda la fine della domanda, Enzo, cioè, perché sono importanti? Diciamo, la motivazione che ho avuto all'inizio nel cercare questa prima community, poi, ovviamente, ne ho conosciute tante altre, ho visto già che sul territorio romano, come pure in tanti altri posti, ne esistono tante di tech community, sono quelle cose che ti permettono di uscire un po' dal tuo, diciamo, dal tuo spazio di lavoro, che può essere un'azienda o un progetto, e conoscere altri professionisti di altri mondi per condividere problemi, darsi una mano a vicenda, risolvere problematiche tecniche del tipo, vediamo tizio su quell'azienda come lo risolve, perché magari la pensano diversa come la pensiamo noi, noi siamo ingabbiati ormai a pensarla sempre alla stessa maniera, poi nelle aziende è un classico questo, noi facciamo sempre così, loro fanno sempre così, ma se non si parla, magari siamo tutti isolati. Invece, le community sono delle cose eccezionali. Suggerisco tutti di almeno inserirsi in una di una qualche tecnologia che gli piace. E poi la birra, la birra... La parte social è la parte migliore di tutti, viene dopo, però sì, è assolutamente carina, dopo gli eventi, se ci sta la possibilità di cenare insieme, di o taralli, o birra, Enzo, il maestro di questo, ovviamente... Certo, diciamo che è lo spirito della community, poi anche quello della condivisione, che va poi oltre il senso della community stessa, perché si chiama così per questo, e quindi creare appunto un gruppo interessante, anche attorno ad altri tavoli, insomma. E' una doppia valenza, sia la parte sociale che la parte tecnologica. Esatto, esatto. Ma oltre appunto la community, noi abbiamo un po' indagato e sappiamo che, appunto, oltre a questa passione qui, ce n'è un ulteriore, ma ce l'hai già anche un'annunciata prima tu, che è quella poi della formazione, no? E volevo chiederti, da dove nasce soprattutto questa passione, e come ti impegni poi in questo ambito? Allora, sulla formazione sì, diciamo che la nascita proprio potrebbe essere originaria nel periodo che ho passato all'università. Cioè, oltre ad aver studiato, come molti di noi, un corso di laurea, io ho fatto un dottorato di ricerca a Roma 3, a Ingegneria, e lì ho avuto un po' di esperienze in merito, diciamo, nel mondo della programmazione, su Java e via dicendo. Seguendo il mondo della ricerca e della formazione, forse sono stato marchiato formalmente da questo tipo di percorso, e ho fatto mio, diciamo, quella che è la possibilità di mantenere elementi formativi costanti nel lavoro. Ora che invece sono in azienda, e lavoro tutti i giorni in questo mondo dello sviluppo, mi sono reso conto che l'IT è un mondo fatto dove ogni giorno escono dieci linguaggi di programmazione nuovi, cento framework nuovi, mille piattaforme nuove, se non si è costantemente, diciamo, formati e informati su quello che succede, e siamo praticamente tagliati fuori. Quindi quel discorso di fare formazione permanente al lavoro, portarla avanti all'interno dell'azienda e condividerla con i colleghi, anche fare, diciamo, dei meet-up e seguirli, serve a tenersi un po' aggiornati, quindi fondamentalmente è un elemento vitale. Io lo dico sempre, in azienda abbiamo un programma formativo, le aziende devono, diciamo, cercare un po' tutte quante di avere degli elementi formativi di varia natura, seminari, workshop, piuttosto che corsi classici, eccetera, dove magari, diciamo, queste cose permettono alle persone, i programmatori, di non rimanere, anche in questo caso, fissati sugli argomenti di lavoro che hanno, ma poter progredire, andare avanti, eccetera. Da questo punto di vista io sono, diciamo, assolutamente convinto di questo tema, io stesso faccio, ho fatto il docente Java per tanto tempo, continuo a farlo su argomenti affini, anche corsi, corsi di onboarding, che potrebbero essere cose un po' più legate al lavoro aziendale, piuttosto che corsi Java base, e Java base ne abbiamo fatti pure con Enzo, abbiamo fatto un po' delle sessioni interessanti, sono su YouTube, tra l'altro, si possono vedere gratuitamente, e ripeto, diciamo, non perderò mai questo tipo di stimolo, perché penso che sia molto utile, lo condivido anche con gli altri. E non lo perdiamo giovedì 24, quindi fra una settimana, diciamo, da oggi, che stiamo registrando, giovedì 24 parleremo di API REST, appunto in Java, con Bootstrap, no, scusa, come si chiama la piattaforma? Spring. Io sono ignorante, per cui ti lascio la parola, e ci anticipi qualcosa di più al riguardo. E io posso dire no, non vi anticipo nulla, lasciamo il segreto fino all'ultima giornata. Va bene, raccontiamo un pochino di che si tratta, cioè fondamentalmente parliamo di API REST, e parliamo di Java, Spring Boot e Spring. Perché questo? Sicuramente parliamo di questo tema, perché nell'ambito del lavoro, soprattutto aziendale Enterprise, uno degli stack principali che viene utilizzato con Java è quello di avere un back-end con Spring e Spring Boot e un front-end vario, che può essere, ovviamente lì non entriamo, JavaScript e via dicendo, come vorrebbe essere Angular, React e queste robe qui. Le conoscete tutti. Lato back-end, per far comunicare due cose, ovviamente noi dobbiamo tirar su un applicativo, diciamo in tutte le realtà, si tira su un applicativo lato back-end, che espone delle API, quindi fondamentalmente un front-end o un altro servizio lo richiama, queste API di solito sono REST e noi utilizzeremo questo tipo di logica REST e faremo, realizzeremo un piccolo software, in realtà un software è dire tanto, in realtà faremo degli esperimenti, degli esercizi, per tirar su questo piccolo applicativo che avrà una parte di controller che risponde a chiamate di tipo REST, cercheremo di rispettare un po' la logica del REST che non è semplicemente chiamate web, ma chiamate web in un certo modo, mettiamola così, e poi lato back-end proveremo a fare qualche piccola computazione, faremo dei test di chiamata, magari con Postman, che è uno strumento che serve per fare chiamate web, insomma, faremo capire un attimo qual è questo, diciamo, elemento che si chiama Spring Boot, che funge da server, che viene utilizzato su Java, prevalentemente per fare microservizi in architetture pure complesse. Non si può conoscere e capire tutto, però questo è solo un input per poter poi approfondire. riuscirai a farmi passare a Java, Ezio. Me lo auguro. Dai, comunque ci hai dato un sacco di spoiler su quello che succederà a giorno 24, sarà veramente stra-interessante, quindi ovviamente invitiamo tutti a iscriversi e seguirci. Noi ti ringraziamo tantissimo, Ezio, per essere stato con noi, per aver fatto questa intervista. Diamo appunto a tutti appuntamenti al 24 marzo alle 18.45 con il meetup Creiamo ApiRest con Java, Spring e Spring Boot. Ovviamente trovate tutto sui nostri canali, lì potete trovare anche gli Eventbrite con i quali iscriversi, quindi vi aspettiamo tantissimo numerosi e ci vediamo giorno 24. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.